Per confezionare un buon giornale serve un ingrediente fondamentale, avere la porta dell'ufficio sempre aperta, sulla città, sul mondo, sulla gente. A Libertà funziona così da 134 anni e funziona ancora di più da quando al timone dello storico quotidiano di Via Benedettine dal 1 gennaio 2016 c'è Stefano Carini, il direttore che ha sempre la porta del suo ufficio aperta. Un vero fedelissimo di Libertà, visto che in quella redazione e in quegli uffici ci ha trascorso praticamente la vita. Il suo motto è chiaro, Libertà è il megafono della gente. Un concetto ribadito da Carini anche nel corso dell'intervista alla trasmissione nel mirino condotta da Nicoletta Bracchi, direttore di telelibertà e liberta.it, in cui ha tracciato un bilancio del suo primo anno alla guida del quotidiano istituzione di Piacenza, ma soprattutto ha fatto le carte a un 2017 che si annuncia ricco di novità per tutto il gruppo editoriale e dunque per la città e per i suoi lettori. Dal 15 febbraio infatti l'universo Libertà cambia. Cambierà telelibertà, cambierà il suo sito online, cambierà anche il quotidiano a partire dalla rinnovatissima veste grafica. Più facile da leggere, più ordinato, con più respiro negli articoli, quindi sappiamo che abbiamo sempre meno tempo di metterci lì a leggere con attenzione i nostri articoli, quindi questi saranno subito più intuitivi, più facili, più snelli da leggere e anche da approfondire.